Salve ragazzi, buona giornata a tutti, è Andrea Bruno che vi parla. In questo momento mi trovo a Genova, è una giornata importantissima, saluto tutti gli amici del web che seguono me e soprattutto saluto gli amici del Movimento 5 Stelle. Adesso sono girati tutti quando ho detto la parola magica perché noi sappiamo che in questo luogo abbiamo tantissimi simpatizzanti. Questa serata sarà una serata d'eccezione, con me ci sono degli amici carissimi, persone che godono di una grandissima stima. In questo momento io non vi voglio rivelare alcunché, vi lascio alle immagini che proseguiranno in questa stupenda serata che sta per avvenire. Un caro saluto a tutti e ci vediamo con le prossime immagini a fra poco.